Una delle cose più importanti da sapere quando si vuole fare trading sui mercati delle criptovalute è come si usano gli ordini sugli exchange e quindi l'ordine limit, l'ordine market, l'ordine trading stop per le chiusure di trigger, post only, l'ordine take profit, l'ordine stop loss come funzionano questi ordini e soprattutto in quali casi sono più utili da utilizzare insieme a quelle che sono le nostre strategie Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video tutorial per quanto riguarda gli ordini delle piattaforme di trading sugli exchange ed è un video molto importante perché lo andremo ad accostare anche alle diverse strategie attraverso infatti quello che vedremo in questo video riusciremo a comprendere come utilizzare alcune tipologie di ordini in caso di alcune tipologie di strategie mentre sarà meglio utilizzarne altri quando vogliamo utilizzare altri tipi di strategie Bene, senza dilungarci ragazzi, io vi ho preparato quello che è la schermata iniziale di BitGet l'exchange che andremo a utilizzare proprio in real time per quanto riguarda questo tipo di video ho dovuto utilizzare l'exchange simulato perché sul mio ci sono gli ordini open di BitGet e quindi non volevo sporcare, insomma, non fare danni sul mio exchange personale perché è un conto che utilizzo ogni giorno mentre qui è un ordine simulato quindi stiamo utilizzando in pratica la demo di BitGet perché andremo a fare una serie di ordini senza fare danni, insomma, ovviamente divideremo questo video in tre tipologie di fasi, tre capitoli diciamo così, il primo saranno quelli che sono gli ordini per aprire una posizione di trading poi la seconda parte parleremo di quelli che sono gli ordini di gestione di una posizione di trading già aperta e poi in una terza fase i ordini relativi alla chiusura di una posizione che è già aperta ovviamente faremo esempi sia per quanto riguarda gli ordini long, quindi le operazioni a riazzo e per quanto riguarda gli ordini short sarà molto più interessante andare a utilizzare i future in questo caso ma in alcuni casi, per esempio, sullo spot trading sarà comunque possibile andare a utilizzare anche alcune tipologie di ordine perché BitGet in ogni caso ha anche alcune tipologie di ordine che andremo a vedere utilizzabili anche nello spot trading come l'ordine limit, l'ordine a mercato e i vari tipologie di ordine già presenti per chi di voi non avesse ancora BitGet vi lascio i link in descrizione tra l'altro con una promo dedicata proprio per questo mese che sono 200 dollari raggiungibili con 100 dollari, con un deposito di 100 dollari quindi ancora una volta vale questa super promozione vi danno 100 dollari da poter utilizzare all'interno dell'exchange per le operazioni e se fate un volume di vendita, di acquisto e vendita quindi di trading superiore a 10.000 dollari vi danno altri 100 dollari quindi una super promo da 200 dollari vi lascio il link in descrizione allora partiamo per quanto riguarda i future intanto io vado a utilizzare il conto isolated isolato qui perché me l'ha tradotto in italiano io odio questa traduzione in italiano li mettiamo immediatamente in inglese ok, isolated e partiamo dalle ordini di opening allora l'ordine limit è un ordine molto semplice da comprendere perché è un ordine che viene eseguito quando il prezzo dell'asset in questione noi utilizzeremo bitcoin tocca quel livello che noi abbiamo indicato perciò intanto l'ordine limit può essere utilizzato solo ed esclusivamente quando un ordine ha un prezzo di ingresso quando cercate di acquistare per esempio un asset quando il prezzo è più basso rispetto a quello attuale quindi noi stiamo cercando di comprare bitcoin in questo momento vale 61.760 ad un prezzo che deve essere più basso rispetto a quello di mercato in questo momento ad esempio 61.000 se noi proviamo a inserire un ordine limit a un prezzo più alto la piattaforma vi eseguirà l'ordine come se fosse inserito a mercato perché in pratica va a dire tu vuoi comprare questo asset a 62.000 dollari il prezzo attuale è 61.700 te lo compro a un prezzo più basso quindi te lo seguo subito perciò l'esecuzione dell'ordine limit ha senso solo e unicamente quando voi state cercando di acquistare un asset a un prezzo più basso rispetto a quello di quotazione attuale stessa cosa per quanto riguarda l'ambito short l'open short per esempio vale al contrario quindi se io voglio aprire uno short su bitcoin andrò a inserire un ordine limit in questo caso con lo short non a un prezzo più basso bensì a un prezzo più alto quindi dirò apri meno short a 62.200 in questo caso andrò a inserire un livello adesso vi spiego anche che cosa sono tutte queste 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 valori e che cosa significano io dirò qui inseriscimi questo tipo di operazione farò un open short vedete qui è stato indicato sul grafico il prezzo limite dove io ho inserito il mio ordine ciò significa che se bitcoin dovesse salire a 62.200 dollari quest'ordine verrà eseguito in questo caso come ordine limit short quindi verrà poi eseguito un ordine al ribasso posso andare a cancellare ovviamente l'ordine presente in questa zona cliccando sul tasto cancella quindi vado in open orders in questa zona e andrò a cancellare il mio ordine allora questioni legate alle problematiche che ci sono con gli ordini limit e pro e contro ovviamente di questi ordini allora l'ordine limit serve in alcune strategie cioè quelle che hanno come idea come logica il buy the dip per esempio o il sell the up cioè quando io voglio cercare di comprare un asset finanziario ad un prezzo prestabilito che ad esempio è un mio livello di supporto quindi dico se il mercato arriva a quel livello di supporto che ho sviluppato attraverso la mia analisi io vado a comprare quell'asset ma nel frattempo il mercato deve quotare per esempio di più allora immaginiamo di fare questo tipo di analisi su un grafico a 15 minuti come questo per esempio di bitcoin in questo momento e dico ok il livello di supporto palese di questa fase di bitcoin è coincidente con questa zona di congestione che poi è stata rotta questa mattina e quindi dico ok se scende a 60.000 dollari magari metto qualcosina in più perché è troppo preciso quindi 60.100 io andrò a comprare in pratica dico se bitcoin mi fa il pull up il pull back di questo livello e va in questa zona io compro perché qui mi ha invertito il trend il trend è rialzo e quindi decido di fare questa cosa benissimo l'ordine di questo tipo verrà inserito come ordine limit 60.100 verrà inserito ancora una volta io sto indicando un valore così adesso vi spiego cosa significa e vado in buy long e quindi ho inserito questo ordine vedete sul mio livello di supporto e in questo contesto i ordini limit hanno un valore ed un senso perché sto andando a tentare di utilizzare un prezzo molto basso ovviamente ragazzi quando noi seguiamo un ordine limit che sia short o long stiamo andando contro trend questo lo dovete capire trend di come? trend di brevissimo perché affinché un ordine limit venga eseguito dal mercato io devo comunque avere un trend che va contro alla mia posizione scelta quindi se sono long voglio andare a comprare avrò un trend che nelle ultime ore per esempio è negativo cioè discendente perché deve toccare il mio livello limite questo significa che obbligatoriamente io dovrò vedere nelle prossime minuti un prezzo che scende quindi questo buy e questo oppure il stella viceversa saranno comunque ordini contro trend tra virgolette ovviamente siccome io sceglierò un time frame adeguato in base alle mie strategie calcolerò un trend che è legato al mio time frame a quello che io ho deciso per esempio in un contesto del genere questo trend sarebbe un time frame ribassista su un time frame magari di un minuto cinque minuti ma non lo è su un time frame di 15 su un time frame di 15 è solo e unicamente un riposizionamento dell'asset sul prezzo medio di salita in pratica sul canale della parte bassa del canale di realzista che ha disegnato quindi tutto qui non riesco a disegnare bene con un mini grafico cancelliamo quest'altro ordine quindi vi ho spiegato cosa e come utilizzare l'ordine limit è un ordine che ha un vantaggio unico ragazzi cioè è un enorme vantaggio e ha anche uno svantaggio terribile allora il vantaggio dell'ordine limit qual è? che vi consente di acquistare a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato attuali vi consente di acquistare a un prezzo predefinito al solo a quel prezzo lì quindi non avete problemi legati per esempio a dei calcoli relativi al vostro stop loss eccetera è tutto calcolato in maniera matematica perché il prezzo è quello limite e poi vi consente di pagare una fee minore perché andate a prendervi la fee maker e non taker allora queste che vedete in questo caso sono quelle simulate io ho la VIP 1 perché faccio tanti volumi diciamo su Bitget però queste le mie sono più basse queste qui per esempio in quello simulato sono quelle vere di Bitget quindi significa che invece di pagare l'8,06% di commissione pagate lo 0,02% che non è poco ragazzi è un terzo è un terzo quindi ovviamente se fate tanto trading alla fine la differenza si sente eccome quindi l'ordine maker è un ordine sicuramente migliore però c'è un difetto un difetto che quasi annienta praticamente tutti i benefici di questo ordine l'ordine limit è incerto potrebbe non essere eseguito e questo è un vero 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 problema cioè nel momento in cui il mercato per esempio avevo inserito l'ordine a 60.100 dovesse toccare 60.100 potrebbe essere che il mio ordine non venga eseguito perché? perché vengono eseguiti magari alcuni ordini a 60.100 poi il mercato non va a colmare tutto l'order book dei 60.100 e quindi non prende il mio perché per esempio io sono in coda sono il cinquantesimo che deve essere eseguito vengono eseguiti 45 utenti ma gli altri 5 restiamo fuori e ti saluto quindi che succede? che in pratica io a volte potrò vedere il mio ordine arrivare su questo livello lo tocca e almeno lo esegue e poi riparte a cannone questo problema dell'ordine limit è una problematica notevole che inficia praticamente tutte le tipologie di strategie automatizzate che hanno necessità a quel punto una volta toccato il pricing per esempio dell'ordine limite di trasformare l'ordine limite in un ordine a mercato per esempio si fa così con le strategie automatizzate perché? perché se non viene eseguito poi io resto fuori da quell'operazione quindi quante rischio vi volete perdere di restare fuori da questa operazione? questo è un problema grave dell'ordine limite ragazzi e non è assolutamente da poco allora andiamo a vedere l'altra tipologia di ordine di ingresso l'ordine market è assolutamente semplicissimo e non perderò molto tempo semplicemente nell'ordine market mi servirà solo e esclusivamente inserire la quantità che io voglio acquistare e l'operazione verrà eseguita al prezzo di mercato al miglior prezzo di mercato di quel istante che il broker vi andrà a eseguire il prezzo uso quest'ordine perché andremo a utilizzare questo tipo di setting per spiegarvi che cosa significa quantity btc cost in usd e nominal value in pratica ragazzi quando io vado a inserire le quantità io posso decidere la quantità da eseguire nei miei trade in base o alla valuta bitcoin o alla valuta dollaro ma nella valuta dollaro in questo caso io andrò ad avere due possibilità diverse cioè al mio costo effettivo cioè di quanti usd io devo inserire in questa operazione considerata quindi la leva finanziaria in questo caso viene considerata la leva finanziaria in pratica il mio margine è il costo effettivo quindi se io vado a mettere mille dollari di margine e il sistema mi userà i mille dollari e poi calcolerà la vera posizione sul mercato in base al mio margine che io ho inserito che sono mille dollari in pratica quando voi andate a inserire cost usd state inserendo l'effettivo costo che voi avete da quell'operazione non il vero capitale che viene immesso sul mercato il vero capitale sarà dato dal costo per la leva che state utilizzando e in questo contesto per esempio io ho inserito leva 10 quindi se vado a mettere qui cost usd e confermo in pratica se io metto mille dollari l'execution effettiva di questa operazione sarà mille per dieci cioè diecimila dollari verranno eseguiti perché io sto utilizzando il margine mille quindi io al broker ho detto utilizzami mille dollari di margine questo è il significato di questo tipo di logica qui quindi usa il mille dollari di margine e fai variare in base alla leva se io qui metterò una leva maggiore per esempio potrò avere una livello maggiore di 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 margine quindi minore di margine quindi aumentare ancora di più per esempio quelle che sono le mie esposizioni ora l'utilizzo di questo tipo di strumento con costo al margine quindi il mio margine a me non piace tanto io lo sconsiglio vivamente perché vi fa non comprendere il concetto dell'effettivo valore che voi state utilizzando spesso viene utilizzata per truccare i conti quando vedete quelli che sono le interfacce insomma delle operazioni chiuse ragazzi escono fuori come con dei profitti stellari 600% 1000% perché vengono utilizzate le leve finanziarie ovviamente non è possibile non pubblicare diciamo quel banderino che gli exchange ci danno quando chiudiamo un'operazione perché lo fanno già loro in quel modo quindi non è che possiamo modificarlo se abbiamo utilizzato la leva esce in quel modo però voi dovete avere la chiarezza di quello che state facendo in quel determinato momento quindi è meglio sapere quanto capitale io sto investendo davvero poi effettivamente non ho bisogno di quel capitale ho bisogno di una margine per coprire quel capitale perché utilizzerò la leva finanziaria se la utilizzate però so che il mio investimento non è quello altrimenti ragazzi se utilizzate leve alte mettete un margine 500 e dite ah ho inserito ho investito 500 dollari no non è così voi ne avete inserite con una leva 100 500 dollari ragazzi sono la bellezza di 50.000 dollari investiti quindi non 500 questo significa che le fluttuazioni e le oscillazioni saranno notevoli quindi per avere una variabile di rischio vi consiglio vivamente di andare a inserire nominal value in questo contesto quello che io vado a fare è inserire per esempio 50.000 dollari in questo caso ma io avrò un margine che utilizzerò per questa operazione che sarà ridotto della leva quindi quando voi inserite il nominal value dovete sapere che il margine che andiamo a utilizzare è il nominal value diviso la leva quindi in questo caso togliendo uno a zero io utilizzerò 5.000 dollari di margine per esempio quindi in questo contesto ovviamente non faccio l'operazione se non mi esegue 50.000 dollari sarà il reale investimento il margine saranno 5.000 dollari però ragazzi le oscillazioni più 1 o meno 2 di bitcoin avverranno sul 50.000 dollari quindi sul vero capitale che voi investite questo discorso vi fa comprendere molto meglio l'utilizzo della leva e la pericolosità della leva compresi diciamo i fattori positivi quando le cose vanno a genio quando invece vogliamo parlare solo di bitcoin questa è una variabile che abbiamo solo noi delle cripto useremo quanti di bitcoin e io in questo caso sarò Tixhead con bitcoin anche questo è molto utile perché ragazzi io per esempio l'ultimo mio sistema che stiamo utilizzando da qualche mesetto in academy che è molto veloce lo sto utilizzando a bitcoin fisso e non a capitale fisso perché questo perché in pratica essendo un sistema solo long su bitcoin mi ha consentito di capitalizzare i miei rendimenti cioè nel momento in cui io ho investito l'assesso identico numero di bitcoin faccio per dire 5 bitcoin ragazzi nel momento in cui io metto buy 5 bitcoin e bitcoin mi saliva ok nelle prossime successive operazioni io ho sempre inserito buy 5 bitcoin in questo caso io investivo una quantità di capitale maggiore in dollari perché bitcoin era salito e quindi mi consentiva di reinvestire diciamo così anche i rendimenti che avevo effettuato quando invece bitcoin scende mi consente di investire di meno in pratica questo tipo di ordine creato su bitcoin vi consente un po' di avere il capitale che ragiona a speculazione rialzista cioè vi fa investire molto di più quando bitcoin sale e di meno quando scende quindi è un modo trend follower di seguire l'andamento è molto speculativo bisogna saperlo usare a volte per esempio è conveniente utilizzarlo nelle fasi di alziste un po' meno magari nelle fasi di bassiste sarebbe meglio passare al nominal value in USD però questa cosa è molto utile anche in questo caso quindi potete utilizzare anche questa cosa bene detto questo per quanto riguarda gli ordini di ingresso ne manca soltanto uno io per l'ordine di ingresso che sono gli ordini trigger e bitget li chiama trigger ma nel gergo tecnico si chiamano ordini stop ragazzi l'ordine stop è un ordine che viene eseguito al raggiungimento di un determinato livello ma a differenza dell'ordine limit che viene eseguito quando il prezzo è più basso per esempio quindi quando scende e tocca il nostro pezzo che è più basso l'ordine stop è il contrario dell'ordine limit in pratica dice io compro bitcoin solo se sale a quel livello lì quindi non se scende a questo livello ma se sale praticamente fa un ragionamento di forza ed è un ordine che viene utilizzato dai trend follower da chi vuole ad esempio vedere un po' di forza su bitcoin io qui potrei dire vado a immettermi qui qui c'è stato un livello di resistenza bitcoin è sceso dico ok entro su questa posizione no aspetto i 62.000 è 2 e dico se bitcoin ritorna su questo prezzo e tocca questo prezzo compra qui in pratica io sto dicendo all'exchange non mi comprare adesso che il prezzo è basso come farebbe con l'ordine limit ma comprami solo se lo tocca quel livello per cui se bitcoin non dovesse mai più tornare qui e nella giornata continuare a scendere io non sarò dentro questa operazione quindi in pratica resto fuori fino a quando l'asset in questione bitcoin non mi mostra un po' di forza è una diciamo cosa veramente molto interessante come si esegue anche in questo caso quest'ordine vado a inserire il trigger qui c'è anche un altro tipo di valore da andare a inserire quindi l'esecuzione deve essere a ordine limite o market adesso ve lo spiego e dico a 62.200 vammi a comprare sempre con un ordine limite a 62.200 vammi a comprare un bitcoin se lo tocca quindi io apro un open long con l'ordine trigger guardate qui mi ha inserito l'ordine trigger in pratica come vedete non è stato eseguito il long anche se è più alto del prezzo attuale perché perché aspetterà l'exchange aspetterà che bitcoin tocchi i 62.200 dollari se non li tocca non mi esegue quest'ordine tra le altre cose io ho utilizzato la execution price con il limit è perché si può utilizzare sia con limit che col market in pratica che cosa cambia cambia quello che vi dicevo prima nel momento in cui il sistema tocca il livello dei 60.2002 se lo supera in maniera molto veloce cosa fa fa 62.210 210 il broker metterà il mio ordine a 62.2002 come ordine limit poi o l'asset torna indietro e esegue tocca quel valore di 62.2002 oppure rischio ancora una volta che avendo utilizzato appunto l'execution con il limit rischio che non mi viene eseguito l'ordine come vi dicevo prima cioè in pratica se io faccio un ordine come quello che ho prestabilito può succedere che c'è un rialzo bitcoin arriva qui il tempo che l'exchange metterà l'ordine limit non scende più a toccare i 62.2002 e continua a salire il mio ordine resterà appeso come limit qui quindi quando viene eseguito un ordine in questione con l'ordine limit si rischia gravemente che l'ordine non venga eseguito a questo punto ci viene incontro cosa ci viene incontro la possibilità di non mettere l'execution price con il limit ma metterlo con il market in questo caso vedete non c'è modo di inserire l'ordine io andrò a rimettere lo stesso tipologia di ordine di prima con un trigger però con l'execution a mercato solo quando viene toccato questo livello e quindi se l'asset salirà su questo livello a un certo punto l'exchange mi lancia un ordine market e quindi come viene eseguito verrà eseguito sicuramente al 100% ma non è preciso il prezzo cioè potrebbe non essere eseguito a 62.2002 ma a 72.015 per esempio o anche un po' di meno a volte se fa uno sbalzo e poi scende un pochino in pratica io con questo ordine mi vado ad assicurare di entrare al 100% nel mercato quando verrà toccato quel determinato livello a questo punto c'è un giochino da andare a dire sull'utilizzo degli ordini stop ordini stop che sono fondamentali ragazzi sono tra gli ordini più utilizzati per esempio di chi vuole acquistare quando una resistenza viene rotta e non quando una resistenza è ancora da rompere in questo caso io per esempio andrò ad acquistare nel momento in cui la resistenza viene rotta un ordine limit un ordine stop scusate potrebbe poteva essere utilizzato proprio su questo livello dei 60.100 questa mattina quando il mercato è andato su questo livello di resistenza appena l'ha rotto sarebbe stato eseguito un long mentre prima precedentemente essendo che il mercato era in una barra di congestione magari saremmo rimasti fuori dal mercato quindi se non faceva questa execution se non faceva questo rialzo non avremmo eseguito l'ordine buy è molto interessante perché si può utilizzare anche a livello di short selling per esempio noi qui potremmo dire questa mercato se adesso va giù di questo minimo che è appena fatto in questo momento scende e quindi 61.002 io non vado ad aprire una operazione long ma vado ad aprire un'operazione short e quindi metterò qui 61.200 vado a mettere esegui a market metto in questo caso un bitcoin e vado a dirgli bam allora cosa succede succede che nel momento in cui questo minimo non regge in questo momento io vado a operare in short e quindi cerco di prendere un eventuale allungo di questo ribasso che potrebbe accadere perché ho perso il minimo precedentemente fatto e quindi in questo caso magari rischierei magari di scendere ancora di più e vado magari a eseguire questa operazione operazione che chiaramente dipende sempre dalle mie strategie c'è un trucchetto allora in alcuni casi di estrema volatilità quando io vado a mettere un ordine stop a market l'ordine stop vi ripeto su bitcoin si chiama trigger e lo metto a market così rischio tra virgolette che il broker mi possa eseguire quest'ordine molto lontano dal mio prezzo trigger perché bastano pochi secondi a volte e bitcoin magari potrebbe passare da 62.2002 che era il mio prezzo di acquisto a 62.300 e quindi a quel punto il mio il mio ordine verrà eseguito molto alto io posso utilizzare la tecnica della execution attraverso il limit price quindi execution price con il limit andando a inserire un ordine alto e dico ok eseguimi e in questo caso ritorniamo diciamo sull'operazione long eseguimi il long se io arrivo a 62.2002 e metti un execution price a 62.250 in questo caso cosa succede succede questo è un trucchetto ragazzi allora succede che quando andrà se bitcoin andrà a toccare quel livello a un certo punto l'exchange farà partire un ordine limit l'ordine limit però sarà inserito un più alto rispetto all'ordine teorico di mercato di quel momento che dovrebbe essere 62.2002 e quindi in automatico l'exchange lo trasformerà in ordine market questo mi consente di dirgli non andare oltre in pratica i 50 dollari quindi se mi esegui da 62.2002 a 62.250 a me sta bene ma se 62.300 non lo esegui perché io ho inserito l'ordine limit quindi oltre quello non devi andare in pratica io utilizzo questo trucchetto per bloccare l'eventuale volatilità quando i mercati sono troppo volati rischio sempre di non restare di non essere seguito quindi posso restare ad esempio al palo quando ci sarà questo tipo di operazione potrebbe essere un po' complessa va bene detto questo ragazzi andiamo a vedere poi gli ordini di uscita che sono molto più più semplici anzi passiamo alla seconda fase che sono gli ordini di margine di gestione con il training stop allora ragazzi poi c'è una piccola parentesi da fare con il post only l'ordine post only è un ordine interessante perché funziona se voi volete eseguiti in pratica al 100% è unicamente con un ordine maker e non taker quindi utilizzate il post only solo se siete dei state facendo delle strategie market making in pratica volete avere la certezza di pagare le commissioni da maker questo è concettualmente non è possibile con un ordine post only essere inserito come taker e quindi in quel caso avremo un ordine esclusivamente al prezzo indicato e ci sarà applicata la commissione da maker a prescindere se il prezzo magari è più basso rispetto a quello che io voglio acquistare questo ha senso solo se fate i market maker utilizzate strategie di market making altrimenti non ha senso facciamo l'execution di un ordine e per aiutare bitcoin io mi vado a inserire con un ordine market facciamo così compriamo bitcoin tanto siamo sull'ordine simulato e vado a inserire un bel ordine market long e vediamo cosa è successo ok ragazzi allora semplicemente superavo i 3000 dollari che erano presenti diciamo nell'acquisto simulato e quindi per questo non me lo faceva utilizzare ho inserito quindi un ordine da 0 1 su bitcoin che è stato vedete qui eseguito allora andiamo a vedere come si può gestire questo tipo di ordine per esempio utilizzando l'ordine trailing stop allora un ordine trailing stop in questo caso e lo vedete qui quindi è un ordine che che cosa fa va a calcolarmi la fase ribassista rispetto a un determinato prezzo in base percentuale e dice se il prezzo attuale è non so 62.000 dollari se scende il livello scende del 3% tu vai a vendere quella operazione che è presente in portafoglio quindi accosteremo il trailing stop all'operazione long che abbiamo appena aperto quindi abbiamo aperto questa operazione long su bitcoin di 0.1 btc andiamo a dire se questa questo trade scende del 3% vai a chiuderlo ma attenzione scende da dove dal prezzo massimo che è stato raggiunto quindi in pratica cosa fa il trailing stop si aggiorna come stop loss man mano che il mercato va nella vostra direzione quindi se il mercato scende subito ve lo chiude al 3% 3% è una scelta mia ragazzi come esempio potete mettere la percentuale che volete si chiama callback la percentuale e nel momento in cui invece il mercato sale e aggiornerà questo mio valore per esempio andando a inserirlo qui a livello proprio visivo nel momento in cui io inserisco questo tipo di trailing stop mi eseguirà mi metterà il trailing stop più o meno in questa zona ma se bitcoin dovesse continuare a salire a un certo punto questo trailing stop sale insieme a bitcoin salirà insieme al prezzo di bitcoin e in modo tale che nel momento in cui io avrò una magari inversione di trend sarò uscito in profitto quindi lo stop loss attraverso il trailing stop parte come stop loss ma poi diventa uno stop profit e si crea così per esempio in questo contesto noi possiamo anche inserire un ordine trigger dove gli dico attivami l'eventuale stop da trailing stop solo e esclusivamente se bitcoin supera i 602002 se non supera i 602002 per esempio non attivare questo ordine oppure posso dire attivalo da subito mettendo appunto come come pricing il market quindi in questo caso io metterò il 3% e la mia operazione è da 0,10 bitcoin metterò 0,10 bitcoin e praticamente devo farlo sullo sullo close e praticamente dirò close long quindi vado a inserire la mia operazione ed è stato inserito dove l'ho trovato intanto guardate come il trailing stop vedete si basa sul massimo della candela si vede anche da qui e si basa sull'aggiornamento di questa di questa fase e dopodiché lo trovate in questa zona andando su open order andiamo su trailing stop ed eccolo inserito quindi in questo caso se scende del 3% dalla fase che sta facendo il trailing stop mi va a chiudere la mia operazione è molto interessante una posizione interessante perché funge sia da top loss che da trailing stop esiste poi altre tipologie di gestioni delle uscite dalle posizioni che abbiamo aperto intanto magari cancelliamo l'ordine trailing stop e andiamo a vedere le altre posizioni le altre posizioni sono l'aggiunta delle position di take profit e stop loss che potete anche inserirle per esempio su un altro ordine un ordine che è già stato inserito andando a cliccare su questo quadratino basta fare clic lì e in questo caso io avrò un take profit che verrà appunto eseguito al raggiungimento di un determinato ordine e sarà per esempio eseguito a livello oppure anche a market quindi io metterò qui in questo caso un prezzo che è 62.500 come take profit e metterò invece uno stop loss che è sempre eseguito market a 60.500 e quindi avrò indicato queste cose andrò qui a confermare e in pratica eccoli qui nella casella sempre open order andate nella zona TP ed SL take profit e stop loss e trovate le due posizioni che sono state inserite ovviamente sono in waiting perché stanno attendendo il raggiungimento e poi sul grafico a livello grafico si vedono perché lo stop loss è qui e il take profit è qui tra le altre cose è possibile anche utilizzare lo strumento di aggiornamento dello stop loss a livello grafico quindi io per esempio sposto questo qui e vado a aggiornare per esempio il livello in questo caso vedete il livello di stop loss è stato aggiornato al livello dell'ultimo minimo e quindi non è più 60.000 e 5 ma è 61.500 e 5 e vedete che anche in questo caso ho indicato di eseguirmi a market price se il prezzo tocca questo livello piuttosto che fare il 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 è il il questi ordini composti e come si vanno a utilizzare ovviamente gli ordini di uscita lo stop loss va sempre inserito in base alla price action sarebbe meglio per esempio in un contesto del genere dove ho aperto una posizione long questo tipo di stop loss che ho appena inserito sotto questo minimo è assolutamente uno stop loss corretto perché io sto cercando di tradare questo tipo di trend se questo tipo di trend viene meno inizia a scendere è giusto uscire dalla posizione perché è sbagliata la mia previsione e quindi vado a uscire dalla posizione come take profit invece sarebbe più corretto andare ad esempio a utilizzare altri livelli come per esempio i dati passati che ci possono indicare determinati livelli di resistenza una resistenza era questa dove ci siamo già all'eventuale superamento io direi che la successiva resistenza sono i 63 mila dollari e quindi andrò a prendere il mio take profit e me lo sposto intorno ai 63 mila dollari e quindi avrò aggiornato questo livello ovviamente take profit e stop loss e vanno in base alle vostre strategie intanto cancello cancello tutti i tipi di operazioni di uscita poi vado in position abbiamo guadagnato 11 dollari finti e vado a chiudere la posizione con close long tra le altre cose infatti l'exchange ci permette anche di chiudere l'eventuale posizione allora fatemi sapere cosa ne pensate di questi video nei commenti lasciatemi soprattutto i pollicioni perché è un video tutorial veramente molto interessante spero di aver chiarito tanti dubbi che molti di voi hanno sull'utilizzo degli ordini complessi e composti per esempio degli exchange fatemi sapere anche voi cosa ne pensate e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti